importantissima giornata oggi per tutta la nostra regione questa presentazione delle giornate del FAI dove vedranno inaugurati aperti 75 sedi più di 3600 ciceroni giovani ciceroni 600 volontari credo che sia queste giornate primaverite come ogni anno organizzate dal FAI la vera dimostrazione di una grande forza del volontariato della passione della capacità di creare opportunità di visitazione da parte non solo dei marchigiani ma anche dei turisti che in quel periodo staranno qui nella nostra regione credo che la regione Marche non possa far altro che veramente complimentarsi dalla presidente e tutti i suoi collaboratori perché ancora una volta dimostrano di avere capacità di aggregazione e soprattutto voler far conoscere queste bellissime realtà che per tanti di noi sono sconosciute ecco io sono convinto che come regione sempre più e questa è la volontà anche dello stesso presidente dobbiamo essere vicini a queste associazioni che hanno la capacità di far percepire oltre che i beni culturali creare anche una promozione una valorizzazione del nostro sistema turistico